Mamma mia, mamma mia, questa è l'ennesima conflitta di un Napoli disastroso Il Napoli perde contro l'Atalanta nel lunch match delle 12.30 Visto che comunque si ritorna a giocare dopo la pausa delle nazionali Ormai la pausa delle nazionali è diventata una pausa che sembra durare veramente decenni Questa pausa nazionali non ha aiutato il Napoli Almeno in questa partita non ha aiutato il Napoli Che pure vedendo ha preso pure il terzo gol di Cup Miners Cup Miners al minuto numero 88 Gol di The Un Cup Miners Allora l'Atalanta la chiude totalmente Tre fischioni Tre fischioni e sono duri Il risultato è un po' bugiardo probabilmente per quello che si è visto Però nel calcio contano quelli Nel calcio contano i risultati principalmente Poi c'è la prestazione Ma i risultati sono al primo posto I risultati sono al primo posto E per il Napoli si allontana anche la possibilità di entrare in una corsa Champions Che già era quasi impossibile fino a oggi Figuratevi dopo questa sconfitta contro l'Atalanta per 0-3 L'Atalanta vince questa partita E secondo me la sosta ha aiutato la squadra di Gasperini Perché l'Atalanta ha giocato una marea di partite Tra febbraio e marzo E ne ha giocate veramente tante Tra Sporting, Juve, Milan, Inter eccetera eccetera E avere un periodo di stacco completo E secondo me è stato un vantaggio Non giocare per due settimane considerando quanto già ha giocato prima E sarà un gran vantaggio per l'Atalanta E comunque venire al Maradona Andare al Maradona e farne tre non è una roba scontata E il Napoli si sta facendo una stagione disastrosa Ma il Maradona è comunque il Maradona Il Maradona è comunque il Maradona E il risultato come vi dico è bugiardo Perché se andiamo a vedere la partita nel complesso L'Atalanta non meritava di fare tre gol Però l'Atalanta ha vinto Allunga tra l'altro in classifica a più 5 sul Napoli Ora l'Atalanta è comunque al sesto posto A meno 1 dalla Roma Che ha un punto in più rispetto all'Atalanta Però la Roma ricordiamo che è una partita in meno E giocherà contro il Lecce tra due giorni Ecco insieme ad altre squadre Però questa è l'ennesima dimostrazione Che quando una stagione ti va male Va tutto male Oggi al Napoli mancava Akbar Schelia Per un infortunio muscolare Nella partita contro la Grecia Che ha permesso alla Georgia di qualificarsi Nella prima volta nella sua storia Agli europei 23-24 in Germania Però è anche vero che all'Atalanta Mancava di chetelare Per un infortunio muscolare E Cup Miners comunque non partiva dal prevenuto Cup Miners non partiva dal prevenuto Io vi vado a leggere la formazione dell'Atalanta Che schierava un 3-4 1-2 modulo quasi storico In questa stagione Con carne secca in porta Eccolo Asinac Ien Scalvini in difesa Zappacosta Ederson Neron Ejatebor A centrocampo Pasalic A supporto delle due punte Scamac e Minanciuk Trasciano Minanciuk Che non è una vera e proprio punto Ok però Il modulo È sempre stato questo In realtà di Gasperini È sempre stato questo Nel primo tempo L'Atalanta Sfiora subito il gol Che poteva valere lo 0-1 Con Alex e Minanciuk Con una verticalizzazione Proprio sull'attaccante russo Che prova a segnare Il gol del vantaggio Subito al secondo minuto di gioco Ma non ci riesce Perché era abbastanza defilato Era difficile segnare quel gol lì Era una palla in verticale Minanciuk non era tutto solo Era marcato Tira Non riesce a fare gol Scheggia il palo Scheggia il palo Alla sinistra di Meret E piano piano Il Napoli riesce un po' A venire fuori Nel senso La squadra che principalmente Fa la partita Nei primi minuti L'Atalanta Poi il Napoli Riesce a uscire fuori E ha Una occasione Molto importante Con Victor Osimène Che Rispetto all'anno scorso Viene servito In maniera diversa E anche con più difficoltà Con Angissa Che Serve Osimène Uno contro uno Para Carnesecchi Tra l'altro Uno dei tanti Uno contro uno Tra Osimène E Carnesecchi Oggi Perché Carnesecchi È stato uno dei migliori In campo Per l'Atalanta E questa è stata L'occasione Migliore Per il Napoli Il Napoli Comunque Con il passare Di minuti È venuto su Però L'Atalanta Al 45esimo minuto Mette probabilmente Fine Alle speranze Del Napoli Mette probabilmente Fine alle speranze Del Napoli Conte Un gol Che si risulta essere Molto molto Importante Per la partita Segnato E realizzato Da Gianluca Scamacca Attaccante Che quando C'è con la testa È in grado Di fornire Delle buone prestazioni Quando non C'è con la testa È capace Di sbagliare 152 controlli Quindi è tutto È tutta una questione Mentale Per Scamacca Se si riesce A sbloccare Mentalmente Può essere Il titolare Anche Della Nazionale E dell'Atalanta Con contiguità Se non si sblocca Mentalmente Vedremo Dei alti e bassi Continui Però Fatto sta Che il gol Di Scamacca È davvero bello Perché lui Si riesce a girare E la piazza Dove Perette Non può arrivare Però c'è anche A dire che Per quanto il gol Sia stato bello Gua Jesus Marca Male Scamacca E lì Gua Jesus Ha delle responsabilità Poi per Gaeta Il primo gol Dell'Atalanta Lo realizza Mirancuc Non l'ho detto Prima Scusatemi Lo realizza Mirancuc Con un gol Anche molto difficile A spiegare Un cross Che partiva Dalla sinistra Atebur Sponda Una serie di Limpale Poi Mirancuc Calcia Sottoporta A mezzo metro E Meret Forse lì Poteva fare meglio Perché il tiro Era mezzo centrale E la palla Passa sotto Le gambe di Meret Si fa riposo Sullo 0-2 Nella ripresa Il Napoli gioca Secondo me Un pelino meglio Rispetto alla ripresa Tra la fase difensiva Orrenda Di quest'anno E ricordiamo Comunque Ricordiamo sicuramente Delle occasioni Per esempio Quella più lampante Quella sotto gli occhi Di tutti Arriva al minuto Numero 54 Con due pali In 20 secondi Un cross Dalla destra Zierischi Di collo esterno Colpisce il palo Poi Lobotka Calcia subito dopo La palla Viene deviata Da Osimene E poi Carnesecchi Molto molto bravo Tempo di reattività Veramente ottimo Riesce a deviarla Sul palo Un'occasione chiave Per il Napoli In 20 secondi Due pali colpiti Forse quella Era l'unica Occasione Che poteva permettere Al Napoli Di capire la partita Me ne ricordo Un'altra Con Osimene Che uno contro uno Sfida Carnesecchi Che però Anche stavolta Riesce a fermare L'attaccante Nigeriano E queste sono state Le due occasioni Principali Al Napoli Che sicuramente Ha fatto tanto Possesso palla Come sempre Ma la resa E pare a zero La resa E pare a zero Un'Atalanta Che ha fatto anche Fatica a uscire In certi momenti Tanto che Gasperini Opera subito I primi cambi Della partita Uno è forzato Perché Scalvini Ha eseguito Un ottimo recupero Ai danni di Ai danni di Lindstrom Facendosi male Quindi Scalvini È costretto A uscire Al posto di Scalvini Ora non mi ricordo bene Ve lo faccio subito vedere Entra Sì Raffaele Toloi Entra pure Jim City Per Colasia Che su me Ha fatto una buona partita Insieme a Ian Che Si è messo nel taschino Victor Rosimella Ha vinto tutti i duelle aeree Pensate Il primo tempo Entra pure Lukman Che è uno che ti dà Molta velocità Uno molto qualitativo È uno che Nei contropiedi Ti può far male Al posto di Scalvacca Che nei primi 60 minuti Davvero Not bad Ma secondo me Ma secondo me Ha disputato Un'ottima partita Scalvacca Forse l'unico Neu di questa partita Per l'Atalanta E l'infortunio di Zappacosta L'ennesimo infortunio Per Zappacosta Che è un terzino Veramente buono È un terzino di livello Ma purtroppo È falcidiato Degli infortuni E al posto di Zappacosta Entra Ruggeri Tre punti per l'Atalanta Chiave Chiave comunque Nella corsa Champions Vedremo se l'Atalanta Arriverà in Champions Secondo me L'Atalanta In Champions Non ci arriva Ma secondo me Può arrivare Nelle prime sei Detto questo Fatemi sapere Questo è il mio video Di la vostra opinione Ciao ragazzi Ciao a tutti